Benvenuto in Magix Video Easy, il programma fatto su misura per le tue esigenze. Nell'elenco Scene vengono visualizzate in sequenza tutte le scene del video. Puoi modificare la sequenza delle scene spostando la rispettiva scena nella posizione desiderata, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. Con il tasto Cancella, elimini nuovamente la scena. È possibile inoltre arricchire ogni scena con una transizione. A tal proposito, basta cliccare sull'icona della transizione tra le due scene. Qui puoi scegliere tra le tre più importanti tipologie di transizione. Con OK, applichi le attuali impostazioni alla scena selezionata. Cliccando sull'opzione A tutte le seguenti, applichi le impostazioni anche alle scene seguenti. La barra degli strumenti è la centrale per tutti i tuoi file multimediali. Qui puoi migliorare l'aspetto e l'audio delle tue scene, inserire un titolo o caricare foto o video. Se desideri caricare diversi file contemporaneamente, clicca sui file in sequenza, tenendo premuto il tasto CTRL e conferma la tua selezione con Apri. Alla voce Completa video, hai a tua disposizione tutte le opzioni di esportazione di VideoEasy. Puoi tagliare ogni scena in corrispondenza del marker di posizione. A tale scopo, basta cliccare sull'icona delle forbici posta al di sotto del monitor video. La lunghezza di ogni scena può essere regolata con l'ausilio della maniglia destra e sinistra. Per modificare l'inizio della scena selezionata, trascina la maniglia posta in corrispondenza dell'estremità sinistra della barra di riproduzione con il mouse verso destra, fino al punto in cui la scena deve avere inizio. Per modificare la fine della scena, trascina a sinistra la maniglia in corrispondenza dell'estremità destra. Cliccando sul tasto di Riproduzione, posto al di sotto del monitor video, viene riprodotto il progetto. Puoi usare inoltre la barra spaziatrice della tastiera del computer per avviare ed interrompere la riproduzione ancora più velocemente. In qualsiasi momento durante la creazione dei tuoi video, hai a disposizione preziosi aiuti per tutte le tue necessità. Per tutte le questioni specifiche, puoi trovare spiegazioni dettagliate nel manuale di avvio rapido e nella documentazione elettronica in formato PDF. Il programma d'aiuto integrato ti offre un sostegno mirato e consente una ricerca in base a specifici temi. Con il tasto F1 della tastiera del tuo PC, puoi ricevere in molti casi un aiuto diretto sull'argomento a cui stai lavorando. Per un aiuto rapido, le note di testo ti offrono in ogni momento una veloce assistenza nei principali campi di applicazione. Buon divertimento con i tuoi video! Il Team Magix